No! Vai Marina, prendi sta domanda! Dignelo un pochino! Così, bravo! Lascia adesso! No, no, no! 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 Ma va bene, vai! Gira al destra! Gira al destra! E' Marina che guida, eh! No! Io faccio solo i filmini! Gira pure in cima! No, tienilo, tienilo, tienilo! Vai! Così! Uhuh! Vai, vai, vai! No, no, no! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Tira di più adesso! Brava! Vedi che qui si sale più forte, eh! Vai, vai! E adesso metti un cicceo! Rilascialo un pochino! Vai! Vai! Vedi che qui si fa più forte! Vedi che se l'intensità del vipo diminuisce, significa che dobbiamo andare nella direzione opposta! Brava! Rilascia sempre verso il cicceo! Allora! E vai! E vai! Bravissimo! Brava! Tieni, tieni, tieni! Ecco! Tieni, tieni, tieni! Tieni, tieni, tieni! Tieni, tieni, tira, tira, tira! Tieni, 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 tieni apri le gambe ah no c'è la tua punta a piedi la prossima volta si si apri le gambe che brutta a piedi lascia l'ultimo mandi non tieni troppo prelazzi che pilota ragazzi vai andiamo per la mia 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 Grazie.